Il 2 febbraio 1984 nasce a Chieti Stefano Mammarella. È il portiere della Nazionale italiana di futsal, uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Non a caso è stato eletto miglior portiere del mondo ai futsal awards per due anni consecutivi, nel 2011 e nel 2012, nessun altro al suo stesso livello. Il 2012 poi è stato un anno speciale per Mammarella. Ha ricevuto il guanto d'oro quale miglior portiere del mondiale svoltosi a novembre in Thailandia, mondiale che ha visto l'Italia conquistare il bronzo anche grazie alle sue parate. Un bronzo iridato arrivato dopo il bronzo continentale, vinto ad inizio anno in Croazia. L'apice per ora della carriera di questo portiere, che a livello di club è salito tanto sul tetto d'Italia quanto su quello d'Europa, difendendo i pali del Montesilvano. Senso della posizione, reattività, prontezza, una saracinesca per la Nazionale Azzurra. In sintesi una garanzia, senza esagerare il buffon del futsal. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.